Una sposa è stata uccisa a colpi di arma da fuoco al suo matrimonio dopo che un proiettile vagante esploso l'ha colpita alla testa. La vittima è una 24enne che si è sposata in Iran. Secondo una prima ricostruzione a un certo punto un ospite, cugino dello sposo, ha sparato con il suo potente fucile da caccia, senza licenza, un colpo per festeggiare le nozze. Il portavoce della polizia ha dichiarato, abbiamo ricevuto una chiamata di emergenza per una sparatoria in una sala per matrimoni e i nostri agenti sono stati inviati immediatamente. Gli ufficiali hanno scoperto che qualcuno aveva sparato colpi con un fucile da caccia come parte di una tradizione locale, ma sfortunatamente a causa della folla presente e dello scarso controllo dell'arma da parte della persona, tre persone sono state colpite tra cui due uomini e appunto la sposa. L'uomo che ha sparato e poi fuggito con l'arma ma è stato raggiunto e arrestato dalla polizia. Gli organi della 24enne sono stati donati.